siamo con il dottor massimo spattini che tra l'altro anche un carissimo amico e che considero un esempio per tanti medici e voglio chiederti massimo la tua qual è stata il tuo segreto nel approfondire certe tematiche fare una propria rivoluzione perché nella tua vita e poi mettere insieme tutte queste informazioni in questi numerosi libri perché tu hai scritto tantissimi libri uno degli ultimi dalla medicina funzionale alla dieta antivirus la dieta com ecco come è nata questa trasformazione straordinaria della tua vita più che una trasformazione direi è un'evoluzione è stata una conseguenza di quello che ho fatto io come tu sai diciamo sono nato dal punto di vista diciamo così di dedicarmi a un qualche cosa soprattutto come atleta quindi io nasco come atleta in maniera specifica come un atleta di bodybuilding e quindi in quest'ottica io avevo l'obiettivo di in questo caso trasformare il mio corpo perché ero particolarmente magro e invece volevo costruire un corpo muscoloso atletico come magari avevo visto in certi film per esempio a me aveva ispirato il film di stallone il primo rocky dove io volevo avere quel fisico lì o delle riviste di bodybuilding per esempio dove in copertina friend zen che era un campione di bodybuilding che mi ispirò perché io volevo avere un fisico come quello però subito io mi resi conto pensai che per poter ottenere un determinato sviluppo fisico io dovevo acquisire delle competenze nel scienza dell'alimentazione e medicina dello sport per questo io feci un percorso diciamo scolastico che mi portò a specializzarmi in scienza alimentazione dietetica e medicina dello sport proprio per acquisire quelle conoscenze che mi permettessero di ottenere il massimo dal mio impegno quindi sono nato come un atleta che ha cercato di acquisire delle conoscenze finalizzate a migliorare la mia prestazione ovviamente successivamente nel tempo quando non c'è stato più questo obiettivo possiamo definire egoistico o comunque finalizzato a uno sport agonistico e mi sono trovato dapprima a seguire prevalentemente atleti per migliorare la performance poi sempre atleti per curarli qualora avesso delle problematiche patologiche ma poi aumentando diciamo anche i processi e le disfunzioni legate all'invecchiamento io stesso mi sono sempre più interessato a tutte quelle dinamiche legate all'invecchiamento tutti quei processi che portano all'invecchiamento e non a caso la base di un approccio della medicina anti aging era fondamentalmente basato su dei cardini fondamentali cui due più importanti erano l'alimentazione e l'attività fisica quindi io partivo già estremamente favorito per le basi mie di studio perché fondamentalmente la medicina anti aging si basava su quello più anche l'utilizzo l'integrazione alimentare che ovviamente questo era un must anche nell'ambito soprattutto dello sport poi la gestione dello stress dove io ho dovuto invece approfondire di più conoscenze in quel genere e anche la modulazione ormonale che per me però è sempre stato un argomento che mi era sempre molto interessato perché anche nell'ambito sportivo per poter massimizzare le prestazioni tu devi avere dei valori ormonali ottimali quindi a quel punto io avevo già quelle basi che mi servivano per fare quel salto verso una medicina di prevenzione verso una medicina finalizzata al mantenimento ancora prima che al raggiungimento della salute con gli stili di vita quindi con l'alimentazione l'attività fisica l'integrazione alimentare le metodologie anti stress e appunto la modulazione ormonale avevo già le basi poi ho ritenuto opportuno aumentare le mie conoscenze acquisendo anche delle qualifiche delle certificazioni che mi dessero ancora di più diciamo un credito in quel campo e da lì è venuta la mia certificazione in medicina anti aging presa con l'A4M American Academy Anti Aging and Medicine Regenerative e con l'Istituto of Functional Medicine sono l'unico medico operante in Italia con entrambe le certificazioni e quindi ovviamente a questo punto questa mia diciamo competenza un po' trasversale ma anche diciamo il fatto di essere sempre stato un punto di riferimento soprattutto nel mondo del fitness dove io rappresentavo un po' una punta di diamante in quanto contraddicevo quei luoghi comuni come tutto muscoli niente cervello e quindi io rappresentavo per il mondo del fitness un emblema qualcosa a cui tutti si potevano aspirare e fare riferimento e se però all'inizio questo fatto di essere forse un bodybuilder ancora prima che un medico mi aveva creato un po' di problemi nell'ambito della comunità medico-scientifica progressivamente ovviamente il mio e la mia crescita nell'ambito più medico cioè con la medicina antiegi con la medicina funzionale avendo scritto certi libri come guida alla medicina funzionale mi ha dato un credito anche nel mondo del medico quindi nell'ambito dei medici e veramente oggi sono molto contento mi fa molto piacere perché vedo che io ho un seguito molto trasversale cioè mi seguono atleti mi seguono persone del mondo del fitness delle palestre giovani biologi nutrizionisti che mi vedono come un punto di riferimento vorrebbero fare il mio percorso ma anche tanti medici tanti medici che vedo mi seguono leggo nei miei libri e ti dirò oggi tanti medici anche che mi chiamano perché vogliono essere seguiti da me dal punto di vista medico perché magari si rendono conto di come un approccio di questo genere sia fondamentale per ottimizzare lo stato di salute loro ma sono dei medici anche loro magari sono anche più esperti di altri perché se già hanno capito questo vuol dire che hanno già approfondito certi argomenti ma capiscono che per ottimizzare è forse meglio far appoggiarsi a chi questa cosa la pratica già da decenni e usa anche strumentazioni come le sdrai e tanti altri test che permettono di pensare quindi la mia trasformazione in realtà è stata un'evoluzione legata a un mio processo naturale di non mi piace dire di invecchiamento ma ovvio che col passare degli anni cambia trasformazione sì ma una trasformazione no io non è giusto trasformazione perché io evoluzione evoluzione una crescita esatto perché io assolutamente non rinnego nulla di quello che ho fatto prima io ancora amo definirmi sono un bodybuilder perché io continuo a allenarmi tutti i giorni faccio un certo tipo di alimentazione cerco di mantenere ovviamente una massa muscolare di un certo tipo non può essere certo più quella che avevo a 30 anni ma nell'ottica anche di quello che io predico l'attività fisica mantenere la muscolatura perché il muscolo ha un effetto protettivo anche a livello della densità ossea della produzione di citochine antinfiammatorie prevenzione appunto della sarcopenia tutta una serie di effetti positivi che si ottengono con l'allenamento e con il mantenimento della massa muscolare e quindi io cerco di praticare dedicando abbastanza tempo della mia vita anche alla pratica di tutte quelle metodologie che io tendo a predicare e a descrivere in tutti i miei libri che sono libri di alimentazione di metodologie di allenamento di medicina e soprattutto il principio base che è sempre presente in tutto quello che io divulgo e scrivo è la personalizzazione dell'intervento e di fatto il mio ultimo libro che è la Dieta Com ed Ingramamento Localizzato parla di un approccio nutrizionale basato su differenti biotipi che si distinguono sulla base di una morfologia dell'individuo che permette un intervento personalizzato e tagliato su misura sull'individuo perché la medicina di precisione non può essere una medicina che dà soluzioni uguali per tutti ma deve essere una medicina che deve essere appunto tarata sulla persona quindi quello è il messaggio che io do sempre do concetti di base che senz'altro possono essere in parte generalizzati do informazioni, do conoscenze ma poi dopo tramite anche l'utilizzo di un'anamnesi, di una valutazione soggettiva di test specifici che ti permettono di andare a vedere com'è la situazione che vanno al di là del semplice esame del sangue che ovviamente anche quello va fatto che ci permettono con l'esame del sangue però vediamo solo certe cose poi vediamo una situazione dinamica che è proprio del momento mentre un test come l'ass drive permette di vedere una valutazione valutando appunto il cappello che è quello della cellula che esprime una situazione del momento ma non estemporaneo di qualche mese insomma e quindi ti permette poi di intervenire modulandola e poi facendo delle verifiche dopo aver fatto gli opportuni interventi magari ogni tre mesi proprio per pian piano riequilibrare il discorso quindi diciamo che tu dici qual è il tuo segreto no il mio segreto è in realtà uno che potrebbe sembrare non vero perché uno magari che non mi conosce può pensare che io mi dia forse qualche delle arie che mi... no in realtà io non ho una bassa autostima perché sarebbe stupido dire che io ho una bassa autostima però io non mi considero assolutamente arrivato io non penso di essere quello che sa tutto io ho proprio anzi la consapevolezza di non sapere e quindi continuamente cerco di aggiornarmi io quando mi confronto con persone che sono ai tuoi convegni ai tuoi congressi parlo io spessissimo rimango a bocca aperta e dico mamma mia questa persona come preparata ma quante cose ci sarebbero da imparare e rimango piacevolmente sorpreso quando loro sono a dire a me tu sei il mio mito io ho imparato da te leggendo il tuo libro tu per me sei il punto io rimango veramente proprio molto soddisfatto di ciò ma perché io non penso questo di me ti ringrazio Massimo di questo perché ti ho voluto in maniera specifica fare questa domanda perché tu sei fonte di ispirazione proprio anche per la tua mentalità la capacità di mettersi in discussioni soprattutto di praticare quello che predichi e quindi penso che dobbiamo continuare così questa intervista a mio avviso può essere utile a tantissimi tuoi colleghi ma a tutte le persone che vogliono veramente apprendere a cuore la propria vita e farne un capolavoro quindi grazie di cuore Massimo grazie a te Giorgio salve a tutti grazie a te Giorgio